benvenuti con la quinta parte mi sembra, quinta parte di tom brager allora eravamo appena risaliti dalla stanza e io naturalmente noi ora dobbiamo proseguire, allora vediamo un po' qua no, non c'è nulla dunque vediamo un po' dov'è che bisogna proseguire ecco si qua, perfetto, 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 perfetto non ci vado, però facciamo un gruppo no, mi sembra, comunque va bene, andiamo dopo andiamo qui, perfetto, qua, qua speriamo di non fare fail, se no, cazzo, c'è da fare un mucchio oh, però è perfetto camminare oh, adesso un passo indietro no, di nuovo, eh ma che palle no, niente, allora, ripetiamo un'altra volta l'azione complicatissima, ecco, ho fatto fail, ma lì in pratica, allora, vedete là c'è dei pavimenti i pavimenti coronanti sospesi, allora, io non ce l'ho fatta per andare alla superfamma, però vai Lara, smettila di guardare là su, adesso ti faccio andare tiriamo questo blocco, ora io tiro il blocco, ora io tiro il blocco, ora io tiro il blocco proprio apposta per andare, cioè, ho testato questo blocco proprio poco, poco prima di fare sto video ho testato sto blocco vediamo un po', ecco, c'è un menipacco grande, io naturalmente non l'ho fatto come andrebbe fatto però, insomma, adesso allora, adesso spingiamo il blocco cazzo allora, spingiamo il blocco tutto in avanti proprio perché spingiamo, 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 spingiamo ci vorrà un sacco di tempo, però le bisogna farlo faccio silenzio perché tanto non c'è niente da dire allora, spingiamo sempre mi sa che siamo quasi alla fine ecco, sì, siamo quasi alla fine ok prepariamo subito il pistone sono dei pistelli cagatazzo dov'è che sono? le poti doverle non le vedo ecco il non provare neanche amicinati alla testa qui ora qui ancora pipistrelli cagatazzo cagatazzo so che in questa parte funziona un titolo ero i pipistrelli cagatazzo basta, questi pipistrelli sono veramente le cagatazzo scusate se ho la versione in francese ma se volete un tombrader con la versione in damiano allora cercatevi un altro let's play scusate la brutalità ok, qua abbiamo un melipack grande nascosto nel buio eccolo eccolo un altro pipistrelli cagatazzo cagatazzo due mi sono di cagatazzo no, un momento io devo ritornare nella stanza mi sa che sia quanto persi devo ritornare nella stanza sì, sì devo ritornare nella stanza perché non ho preso due cose importanti la chiave e l'idrotoro no, no, non l'ho preso proprio fatemi vedere un attimo il tempo sulla video 5 minuti allora mi sa che chiudiamo qui la parte e ciao ragazzi alla prossima ciao ciao